In Eraldica l'arme si fonda sulla corrispondenza tra il blasone e lo stemma, laddove lo stemma è la componente grafica, è composto dallo scudo con tutti i suoi ornamenti esterni, cioè il cimiero, l'elmo, i supporti, il motto, dall'altra il blasone ne costituisce invece l'elemento descrittivo, verbale, per cui una volta che noi abbiamo uno stemma siamo in grado di descriverlo, blasonarlo, quindi, e allo stesso modo, nel momento in cui noi abbiamo il blasone, cioè la descrizione di uno stemma, siamo in grado di riprodurlo graficamente, tanto più che vige la cosiddetta libertà di disegno, per cui è rilevante come siano disegnate le figure, importante è che queste abbiano la posizione, il colore descritto nel blasone. L'elemento più importante dello stemma è senza dubbio lo scudo, che a sua volta si compone del campo, che è lo sfondo colorato, e su di esso vi sono una o più figure. Nei rari casi in cui non vi sia nessuna figura, in genere si parla di tavola di aspettazione, come a dire in attesa che si verifichino delle imprese sulla base delle quali puoi aggiungere delle figure allo scudo. E anche il caso di alcune unità militari di recente creazione, per esempio, o cavalieri giovani che non avevano ancora provato il proprio valore. La forma più arcaica, in base alle fonti iconografiche, è il cosiddetto scudo francese antico, che è sostanzialmente triangolare, e termina in un'ogiva nel lato inferiore. E successivamente, a partire dai tornei, si diffonde il banderese, che è uno scudo quadrato, o meglio, in realtà in proporzioni di 7 a 8, da cui discende lo scudo cosiddetto sannitico, o scudo francese moderno, che è sostanzialmente simile al banderese, semplicemente il lato inferiore presenta gli spigoli arrotondati e una punta nel mezzo. Ed è quello che troviamo solitamente nella radica italiana, in particolare in quella delle istituzioni, come i comuni, o come le unità militari. Perché poi, per esempio, partire dal Rinascimento, lo scudo italiano per eccellenza è quello a forma di testa di cavallo, che tante volte troviamo, in particolare a livello architettonico, quindi sopra i portali, o sui monumenti. Viceversa, lo scudo inglese è simile a quello sannitico, ma con due sporgenze ai due angoli superiori. Quello spagnolo, che poi è diffuso anche nelle Fiandre, in Portogallo, che erano stati i domini spagnoli, è invece anche qua simile a quello francese moderno, però con il lato inferiore del tutto arrotondato. Viceversa, quello svizzero riprende lo scudo francese antico, ma con due incavi rotondi sul lato superiore, di modo che pare avere tre punte sul lato superiore e una sul lato inferiore. Oppure, quello tedesco, Tarch, italiano Targa, presenta invece un incavo rotondo sul lato che ricalca poi quello che era presente negli scudi da torneo per far passare la lancia, in modo che il cavaliere fosse più protetto. o ancora quello polacco che presenta due incavi sui due lati. In generale, comunque, l'aspetto che ritroviamo in tutta Europa è il fatto che i cartocci sullo scudo indicavano in genere lo scudo di un ecclesiastico, mentre c'è sostanziale una limità sul fatto che lo scudo ovale o rotondo fosse riservato alle dame, cioè alle donne sposate, e lo scudo allo zanga fosse invece riservato alle damigelle, cioè alle donne nubili. Per orientarsi nello scudo si tenga conto che il lato destro non è quello che vediamo noi, ma è il lato destro del cavaliere che porterebbe lo scudo, quindi corrisponderebbe alla nostra sinistra e viceversa il lato sinistro dello scudo corrisponderebbe alla nostra destra. La parte alta dello scudo si chiama capo, la parte bassa si chiama punta, mentre il punto centrale dello scudo si chiama cuore. Si aggiungono poi altri due punti specifici, l'ombelico che si trova sempre al centro ma più in basso rispetto al cuore e il punto d'onore che invece si trova un po' più in alto rispetto al cuore. Poi distinguiamo in alto a destra il canton destro del capo, in alto a sinistra il canton sinistro del capo, in alto al centro il punto del capo, al centro a destra il fianco destro, al centro a sinistra il fianco sinistro, in basso a destra il canton destro della punta, in basso a sinistra il canton sinistro della punta e in basso al centro la punta vera e propria. passando poi al blasone cioè a come si descrive uno stemma va tenuto conto che esistono due modi quello spagnolo e tedesco che parte dalle figure e poi arriva al campo ad esempio leone rosso in campo d'argento e poi invece quello inglese francese e anche italiano dove invece si parte dal campo e poi si arriva alle figure ad esempio si dirà d'argento al leone di rosso la blasonatura all'italiana quindi lasciando da parte la forma dello scudo che come abbiamo detto non è rilevante quindi non si blasona meno che non si sta proprio descrivendo un reperto grafico o una scultura inizia dal campo blasonandolo in base al colore o eventualmente alle partizioni e poi passa alle figure di cui è caricato il campo descrivendone in genere il tipo descrivendone il colore gli attributi la posizione e dopo il campo e le sue figure si passa a blasonare le pezze cioè le forme geometriche che si trovano sullo scudo poi le figure che si trovano su queste pezze e infine ulteriori forme geometriche come la bordura cioè l'orlo oppure eventualmente il quarto franco il cantone che si trovano al di sopra delle pezze infine se lo scudo di suo è ripartito per esempio è inquartato quindi ci sono quattro diverse parti di questo scudo allora si dice inquartato nel primo e si blasona il primo cantone nel secondo e si blasona secondo cantone e così via allo stesso modo con altre forme di partizione dopo aver così blasonato lo scudo si può passare a blasonare gli ornamenti esterni a partire dal timbro cioè gli elementi che sovrastano lo scudo quindi l'elmo il cimiero la corona e quindi si dice timbrato di poi sostenuto da cioè si blasonano i tenenti o supporti in terzo luogo si blasona accollato da cioè le varie decorazioni dello scudo circondato da cioè eventualmente padiglione o manto che appunto circonda lo scudo e infine si blasonano i motti come la divisa o il grido di guerra